Un viaggio da Firenze Smart, ben trovati da Mauro Ciutini. Coda 4 km per un incidente in A1 segnalata tra Firenze e Scandicci e il BV A1 variante di Valico verso Bologna. E sempre in A1 tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione Bologna personale su strada. Ralentamenti sempre sulla A1 tra Valdarno e Incisa-Reggello in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, la viabilità esterna non riceve, il traffico è rallentato tra la Strasigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Infine per i treni, il 4026 Livorno-Firenze viaggia al momento con 20 minuti di ritardo. Ed è tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città, Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!